21 dicembre, primo giorno d'inverno, la stagione in cui anche in questa fine 2023 i casi di contagio da Covid-19 meritano la doverosa attenzione, anche se siamo distanti dai tempi bui della pandemia, però contagi che sono in rialzo ed è in rialzo anche la sensibilizzazione alla vaccinazione anti-Covid-19. Vaccini che oggi vengono somministrati con questa giornata di Open Day qui al Dipartimento di Prevenzione di Vianitti di Pesaro, una giornata intera in cui i cittadini si presentano senza prenotazione, senza appuntamento e si sono presentati in tanti, già un centinaio, fin dalle prime ore del mattino, segno che la sensibilizzazione sulla tematica è quanto mai attuale. La sensibilità è molto di tipo reattivo, cioè dipende molto da quello che gli utenti avvertono anche attraverso i media, perché se ci pensiamo bene all'inizio della campagna non c'era questa grossa attenzione alla vaccinazione Covid-19. Molti utenti pensavano che con le loro tre dosi, quattro dosi erano a posto e adesso con la ripresa dei contagi magari capiscono che è importante fare anche la dose booster con il vaccino aggiornato. E quindi questi eventi di accesso libero stanno avendo un grosso successo. Un'affluenza probabilmente anche al di sopra delle aspettative con la protezione civile a regolamentare gli accessi, in tanti hanno dovuto attendere fuori il proprio turno con qualche mormorio legato anche alle temperature del periodo. Si sono presentati tantissimi, over 60, la categoria più indicata per la vaccinazione. Sicuramente gli anziani e i soggetti fragili sono i soggetti a cui la vaccinazione è fortemente raccomandata, un po' come l'influenza, nel senso che questa è una vaccinazione che molto probabilmente diventerà una vaccinazione stagionale e dovranno essere immunizzati i soggetti più fragili, quindi gli anziani e i soggetti con condizioni patologiche croniche. Quello di oggi è il primo di tre Open Day di vaccinazione anti-Covid proposto dall'azienda sanitaria territoriale di Pesero e Urbino. Si replicherà il 23 di dicembre a Urbino e il 29 di dicembre a Fano. Gli Open Day sono stati richiesti dalla Regione, a sua volta sollecitata dal Ministero perché le vaccinazioni Covid non decollavano. Bisogna dire anche che non c'è una massimale adesione dei medici in medicina generale alla vaccinazione anti-Covid e quindi è stato necessario offrire queste giornate di accesso libero.